quando ero piccolissima facevo la primina dovetti fare l'esame per passare in seconda e andò e fu disastroso andò malissimo proprio sbagliate mi avrebbero bocciata sicuramente se non fosse stato per un disegno un disegno che evidentemente colpì molto e passai grazie a questo e me lo dissero poi dopo anche quindi questa cosa comunque sono una bambina di sei anni probabilmente mi impressionò cioè mi resi conto che un disegno poteva avere un effetto sulla realtà poteva cambiare le cose pur continuando a disegnare così all'attere però in realtà ho studiato il fatto del liceo classico ho studiato storia contemporanea in varie occasioni io ho vissuto due anni in america in entrambe quelle occasioni quando ero piccola una 16 anni una 24 e in entrambe delle occasioni avevo la chiarezza che in realtà volevo fare l'artista volevo fare arte eccetera eccetera quando poi però tornavo in italia mi perdevo diciamo ho fatto altro quindi ho studiato storia contemporanea e poi e poi ho fatto un master in traduzione letteraria quindi in realtà per dieci anni della mia vita dopo la laurea io ho tradotto letteratura americana tra l'altro devo dire andata anche molto bene nel senso che ho tradotto degli autori grandiosi come john civer ho tradotto david foster wallace ho tradotto richard ford insomma veramente è stata un'esperienza molto forte sicuramente che sicuramente mi ha anche arricchita però questo era più un servizio che io facevo per gli altri più che per me era interessantissimo era bellissimo ma non era la cosa che io poi nel profondo volevo fare da sempre e quindi ho deciso che ero pronta in qualche modo per tornare a fare l'artista per provare chiaro e chiaramente uno non è che lo sa quando comincia quando ci si mette e quindi mi sono iscritta all'accademia cioè ho fatto perché comunque non avevo contatti diciamo nel mondo della c'è ho fatto proprio ho detto come si fa e si fa da zero cioè ci si iscrive all'accademia e si così si prova no e in realtà questo percorso poi è andato è stato sempre più forte ma ha portato sempre più dentro a questa cosa finché a un certo punto mi sono resa conto che non non potevo tornare indietro cioè se fossi tornata indietro sarei stata infelice sicuramente tutta la vita ora quest'opera che grinalga abovo grinalga fa parte appunto di una di una serie che si chiama abovo si concentra sul mio interesse per i motivi decorativi i motivi decorativi sono qualcosa che in qualche modo ritorna stanno sempre a margine sono la cornice di qualcosa sono se non sono mai i protagonisti in qualche modo no della storia però in qualche modo sono presenti sono sempre presenti e a un certo punto mi sono accorta andando nei musei visitando luoghi guardando libri eccetera eccetera di di alcune ricorrenze di questi motivi decorativi per esempio ma cose banalissime anche per esempio le le griglie o i motivi a scacchi o i pallini o certi un certo tipo di triangolo le strisce bianche rosse sono tutti dei dei motivi che si ritrovano nella veramente nel vasellame preistorico così come in matisse passando attraverso appunto dipinti del rinascimento stoffe senz'altro insomma in tutte le epoche questi questi motivi ricorrono ad esempio alla hawai c'è una tradizione appunto che fa di quadretti che fanno queste cose con la corteccia sono motivi del tutto analoghi a quelli appunto che ho appena citato questa cosa per me è molto interessante perché fa pensare come una sorta di codice comune a tutta l'umanità per cui quando noi vediamo queste immagini ci ricolleghiamo immediatamente a un'idea di comunità di essere parte di dell'umanità alla fine che insomma per quanto banale comunque è abbastanza forte come cosa in particolare green alga e fa parte di di un filone di abovo che appunto sono i motivi vegetali questo è interessante per me anche perché appunto c'è una c'è un discorso del confronto del confrontarsi con la natura c'è la natura molto vicina in realtà al concetto di motivo decorativo perché c'è sia nella natura che nel motivo decorativo c'è implicita l'idea dell'infinito questi lavori sono in stoffa ma è panno di lana praticamente e ho cominciato a usare la lana nel senso quasi come sarebbe una specie di collage però non è un collage perché in realtà poi li cuccio a mano in maniera invisibile nel senso si vede molto molto poco bisogna proprio avvicinarsi per vedere la cucitura e lana cucita su tela il colore ritorna con maggiore intensità rispetto ad altri insomma mezzi e progetti per il futuro io in questo momento mi trovo in un luogo molto speciale che è lo studio a spoleto di soliuit proprio queste pareti in cui da questo parlando sono in una residenza e qui in realtà sto lavorando a due progetti che sono una è una mostra a villa lontana a roma curata da joe melvin e vittoria bonifati in cui presenterò dei lavori sempre della serie di abovo diciamo un'altra mostra che sarà invece qui a spoleto e a giugno e sarà curata da joe melvin delle diapositive in realtà che sono un filone di abovo poi sto anche lavorando a un libro d'artista che uscirà per un'altra diciamo un'altra mostra che sarà invece qui a spoleto e a giugno e sarà curata da joe melvin nel momento ci sono dei miei lavori alla galleria nazionale a roma nella mostra io dico io curata da cecilia canziani paolo golini e lara conte e lancio sicuramente ci sarà ancora tempo di vederla perché è stata chiusa ma rimarrà aperta fino ai primi di giugno quindi insomma c'è tempo un'altra mostra che è stata un'altra mostra che è stata un'altra mostra di un'altra grazie a tutti Grazie a tutti.